E a proposito di pesca e della lavorazione del corallo, c'è un piccolo corto realizzato dai ragazzi del liceo De Bottis di Torre del Greco che ha avuto un gran successo. E' stato infatti il più votato nel contesto online promosso dal Festival di Giffoni, sbaragliando la concorrenza di scuole di tutta Italia. E' la storia dei pescatori e delle loro famiglie quando andare per mare significava rischiare la vita tra tempeste e pirati saraceni. Uno spaccato fedele della società di quei tempi quando il corallo era il motore dell'economia locale in una torre del Greco intrisa di fede e segnata da divisioni sociali. Un percorso didattico innovativo destinato anche a promuovere i luoghi del corallo. Il titolo? Acurallina, naturalmente.